Ciao a tutti, in questo video voglio spiegarti cosa fare se lui smette di cercarti. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo di notare che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare a live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate, videoregistrazione e seminario del vivo. Comunque iscriviti al canale YouTube Massimo Terramasco, ovviamente. Allora, che cosa fare se lui smette di cercarti, se lui non è più propositivo nei tuoi confronti? Beh, intanto ovviamente questo perché accade normalmente? Ci sono diverse motivazioni. La prima motivazione è che hai esagerato tu a cercarlo, hai esagerato tu con il pressing. Questo è un motivo che accade molto spesso perché dobbiamo tenere presente che i parametri diciamo per i parametri che vanno gestiti sono il desiderio e il possesso. Ci sono alcune persone che diciamo hanno bisogno un po' più di possesso, altre meno. Però dobbiamo tenere presente che il desiderio va stimolato in tutti. Nessuna persona ti cercherà se verrai data per scontata, se verrai data per acquisita. Quindi questo è il primo punto fondamentale. Dato saluto tutte le persone che si collegano, che mi seguono diciamo. E appunto iscrivetevi al canale YouTube Massimo Terramasco, ma anche gli altri miei canali YouTube Crescita Personale con Massimo Terramasco e Felicità e Benessere. Allora, quindi un'altra motivazione è che è diminuito l'interesse perché è subentrata un'altra persona. Ma in ogni caso la cosa fondamentale in queste situazioni è non farne un dramma. Tenere presente che la seduzione è comunque sempre un gioco, è comunque qualcosa che va vissuto diciamo in modo giocoso. Anche le relazioni sentimentali da un certo punto di vista erano vissute in modo giocoso. Fintanto che non ci sono impegni, fintanto che non ci sono impegni precisi, non andrebbero vissute come chissà che cose. Invece spesso succede quello. Ci sono persone che manco hanno una relazione di fatto, hanno soltanto una frequentazione e già entrano in paranoia, si impanicano se la persona non le cerca. Questo è, diciamo, è sbagliato. Quindi come filosofia relazionale devi tenere presente che fintanto che non ci sono impegni precisi, non devi, come dire, dedicare energie particolari. E le frequentazioni, perché si tratta di frequentazioni, devono essere vissute in modo, come dire, in modo giocoso, come se fosse un gioco. Quindi ci si può allontanare, ci si può riavvicinare, ma non bisogna soffrire o crearsi delle aspettative per questo, perché il vero problema per cui si sta male, diciamo così, in amore, sono le aspettative che ci creiamo. E spesso ci si crea delle aspettative quando non c'è motivo di crearsele, perché le persone possono tranquillamente. Ci sono persone che si vivono un film diverso dal nostro. Questo capita molto spesso. Ad esempio, c'è chi mi dice, vabbè, ma noi stavamo assieme da due anni e lui improvvisamente è sparito. Allora, stare assieme da due anni, poi se tu vai a chiedere, ma che significava? Come stavi assieme? Che facevi? Eh no, vabbè, ma noi ci vedevamo. Ogni quanto vi vedevate. Ma qualche volta, una volta a settimana, le volte magari passavano due settimane, tre settimane, sì, non era proprio perché era un po' lontano, quando si poteva, insomma, alla fine vedevi, veniva fuori che in due anni, insomma, sì, l'avrà visto 50 volte, fu 40 volte, insomma, comunque, una relazione, ma neanche forse una relazione che in realtà non era una relazione, era una frequentazione. E probabilmente una di queste due persone, la donna in questo caso, aveva, come dire, si era creata delle aspettative che dall'altra parte non, che dall'altra parte non erano comunque per nessun motivo ricambiate. Quindi, quando si dice, diciamo, relazione, o un compagno, o una compagna, significa intanto relazioni, significa intanto relazioni che siano, come dire, basate su un impegno reciproco, o una convivenza, o un matrimonio, tutto quello che sta di fuori della convivenza, tutto quello che sta di fuori della convivenza e del matrimonio, in realtà è una relazione, come dire, all'acqua di rose, più che altro è una frequentazione. E quindi nelle frequentazioni è normale che le persone si allontanino, si avvicinino, trovino altri, eccetera. E non dovrebbe generare sofferenza, perché tu non dovresti aver messo, non dovresti aver messo aspettative. Questo è il fatto fondamentale. E quindi devi cambiare mentalità. Devi assolutamente cambiare mentalità. Cambiare mentalità vuol dire che non devi dar credito, diciamo, e non devi viverti le situazioni in modo negativo e nefasto, perché se una persona smette di cercarti, ripeto, se avviene nell'ambito di una relazione, cioè nell'ambito di una relazione, questo non può accadere, perché una relazione si può manifestare soltanto attraverso una convivenza o un matrimonio, o qualcosa del genere. Allora, in una convivenza o un matrimonio, beh, la persona non è che può smettere di cercarti. Ci deve essere comunque un confronto. Persone che spariscono così da nulla, avviene sempre nelle frequentazioni. E quindi o accade perché, e le motivazioni sono due, o accade perché tu ti sei fatto un film diverso. Ma, ripeto, non bisogna mai farsi dei film diversi. Non bisogna mai farsi dei film diversi. Poi ci sono tutte le cose più assurde, non ci sono persone che anche dopo un anno e mezzo si vanno a chiedere perché mi ha sbloccata. Cioè, dopo un anno e mezzo, se una persona, ad esempio, sono delle cose ridicole, mi ha sbloccato dopo un anno e mezzo, mi ha impegnato. Beh, uno dopo un anno e mezzo praticamente non ti considererà più neanche come una persona con la quale non avere nulla a che fare. Dopo sei mesi si resetta tutto, no? Dopo sei mesi si resetta tutto. E quindi non c'è più nessuno. Uno non può stare lì a farsi le paranoie per una persona che dopo un anno e mezzo magari ti sblocca, ti riblocca nei social. Cioè, è veramente una paranoia. Dopo un anno e mezzo, ma anche dopo più di sei mesi, non c'è assolutamente più nessuna, cioè, tutto si è esaurito completamente. Una persona del genere è un'estranea. Quindi non c'è esattamente nessun motivo. Quindi il fatto di chiedersi, ad esempio, ci sono persone appunto che si chiedono, ah, ma perché dopo un anno e mezzo mi ha sbloccata quando mi aveva bloccata per un anno e mezzo. Una persona che ti blocca, intanto bisogna tenere presente questo, se una persona arriva a bloccarti, è un altro fatto fondamentale. Se qualcuno arriva a bloccarti, è perché si sarà sentito pressato, si sarà sentito controllato, si sarà sentito rotto nei coglioni, fondamentalmente. E questo è dato di fatto. Perché se uno, quindi quello che bisogna fare in tutti questi casi e avere una mentalità diversa, fin tanto che non c'è una relazione, fin tanto che non c'è una relazione seria, bisogna tenere presente che non bisogna assolutamente relazione seria, ripeto, è solo o con convivenza o con matrimonio. Tutto il resto è frequentazione. Deve avere una mentalità più easy e quindi non dare mai, ad esempio, l'esclusiva a una persona. Mai dare l'esclusiva a una persona. Fintanto che non c'è un impegno concreto, bisogna sempre viversi le cose in modo giocoso. Certo, vedrai una persona un po' di più, ma ne vedrai anche altre, cioè frequenterai anche altre persone. Non è che una persona ti dice no, ci vediamo una volta a settimana, ma siamo fidanzati. Quello non esiste, cioè il fidanzamento classico, il fidanzamento, ecco, un'altra cosa interessante, che qua spesso noi per il nostro bisogno fraintendiamo le cose, e diciamo, ah, il mio fidanzato qua, il mio fidanzato là, sono tante le persone che dicono questo. Il fidanzamento, ma proprio da un punto di vista, come dire, cognitivo, è proprio un periodo di tempo finalizzato al matrimonio. Quindi se una dice il mio fidanzato, a me viene spontaneo dire, ah beh, allora vi sposerete, avete, come dire, previsto una data per le nozze, non, io sono rimasta fidanzata a nove anni. Ma che cazzo dici? Ma non sei rimasta fidanzata a nove anni? Non è possibile che sei rimasta fidanzata, perché non è che uno, il fidanzamento, il giorno del fidanzamento, è il giorno in cui tu decidi, che ne so, che il mese prossimo, due mesi dopo, due o tre mesi dopo, comunque nel giro di qualche mese, ti sposerai, hai già fissato la data delle nozze. Quello è il fidanzamento. Altrimenti non è un fidanzamento, è semplicemente una frequentazione, quindi non può esistere, stiamo rimasti fidanzati nove anni, io sento queste cose qua, non esiste, sarai frequentato con una persona nove anni, e se tu hai continuato a frequentare solo quello, cretina te che sei rimasta solo con quello lì per nove anni, cioè, e questo, e questa è la cosa, e questa è la cosa fondamentale, no? Questa è la cosa fondamentale, bisogna tenere presente questo, quindi dobbiamo cercare di essere, dobbiamo cercare di essere più easy nelle situazioni, no? Fintanto che c'è una frequentazione, quindi che tu frequenti una persona, ma non c'è un fidanzamento, quindi una promessa ufficiale di matrimonio, che di sotto viene suggellata da un anello, oppure una convivenza, diciamo, un qualcosa di concreto, oppure un matrimonio reale, in realtà tu non hai una relazione, hai una frequentazione, e allora devi viverti le cose tranquillamente, frequenterei lui, ma potrai frequentarne anche altri, perché questo è il concetto, no? Cioè, se tu, non ne frequenti uno solo, ma ne frequenti due o tre, per dire, perché poi, se il concetto è che se una persona la vede una volta ogni tanto, puoi tranquillamente una volta ogni tanto, puoi vedere neanche più di una, ma al di là della sessualità, è proprio come frequentazione, intendo, devi essere libero, e se una persona si allontana, non devi chiederti duemila perché, se n'è andato, se è allontanato, non devi chiederti assolutamente nessun perché, se è allontanato, perché è successo, quello che tu devi fare è concentrarti su di te, in questo caso, e diventare, come dire, coltivare durante le frequentazioni, sempre le tue passioni, non isolarti mai, non avere mai, diciamo, una situazione in cui, dedichi tutte le tue attenzioni soltanto, a una persona, perché è completamente assurdo, non devi essere sempre disponibile, perché nelle frequentazioni, io sono disponibile, se mi fa comodo, se non mi fa comodo, non sono disponibile, se c'è un'altra cosa che mi interessa di più, me ne vado, me ne vado da un'altra parte, no? Cioè, quindi, non è che se frequento una persona, appunto, magari ci si vede una volta a settimana, una volta nei 15 giorni, quello che è, poi sono sempre disponibile, se ho un altro impegno, un'altra cosa che a me mi interessa di più, me ne vado da un'altra parte, quindi, ci sono diverse, ci sono diverse modalità, no? per interagire durante le frequentazioni, quindi questo è fondamentale, non devi essere, diciamo, devi mantenere aperte più opzioni, questo è il concetto di fondo, cioè, e quindi, e ripeto, in tutte le frequentazioni, vanno mantenute aperte più opzioni, in questo modo, non avrai, come dire, non tenderai a vivere sofferenze, perché comunque, è come dire, quando una persona si allontanerà, dirai, vabbè, questa sicuramente non era la persona giusta, arrivederci e grazie, e avanti un altro, ma l'importante è viversi le cose con leggerezza, viversi le cose senza grandi impegni, invece oggi, diciamo, siamo arrivati al paradosso, per cui ci sono persone che si considerano in relazione, anche con qualcuno, che magari hanno visto solo una volta, due volte, o tre volte, e poi, la frequentazione avviene online, ad esempio, ecco, siamo arrivati proprio all'assurdo, del credere che si possa creare, una relazione online, online, non si può creare nessuna relazione, già una frequentazione online, è assoluta, no? E quando uno dice, ad esempio, ha il mio compagno qua, il mio compagno là, quando io sento compagno, quindi parlo di relazione, è solo ed esclusivamente in due situazioni, convivenza, matrimonio, o promessa di matrimonio, quindi fidanzamento, tutto il resto non è il tuo compagno, è una frequentazione, è una persona che frequenti, che potrebbe frequentarne anche delle altre. Allora, se partiamo, passiamo in questa mentalità, purtroppo cosa succede? Succede che sono i nostri bisogni, no? Che spingono, sono i nostri bisogni che spingono, diciamo, sono i nostri bisogni che ci spingono a credere delle cose che in realtà veramente non hanno alcun senso, ci spingono a vedere l'ucciole per lanterne, ci spingono a pensare che ad esempio il fatto che noi amiamo una persona debba corrispondere al fatto che questa persona ami noi, non è così, ma ripeto, tutto nasce dall'impostazione, noi dovremmo veramente impostare qualunque situazione in modo easy, in modo allegro, in modo giocoso, conosco una persona nuova, la frequento, ma non è che la frequento solo questa, frequenterò questa e ne frequenterò anche altre, cioè, quindi senza aspettative, senza vissute in modo giocoso, allegro, vivendosi il momento, tenendo presente che si tratta di una frequentazione, quindi una cosa in cui non devo mettere un impegno, perché l'impegno, ragazzi, avviene soltanto quando c'è, diciamo, o una promessa di matrimonio, o un matrimonio conclamato, o anche una convivenza, perché diciamo che anche una convivenza è comunque un impegno, comunque, ti prendi un impegno con una persona, ovviamente, ma se non ci sono questi presupposti, e la persona la vede una volta ogni tanto, torno a ripetere, non devi crearti l'illusione che quella sia una relazione, perché se ti crei questa illusione, poi ti lamenti che quello non ti cerca più, che quello se n'è andato, beh, è una tua, come dire, è un, come dire, hai avuto una non corretta visione della realtà, quindi, nelle frequentazioni può succedere che una persona cambia idea, se ne vada, non sia più disponibile, di solito però succede quando o subentrano altre situazioni, per cui non c'è più tempo, ma sicuramente non, oppure quando una persona fa pressing, perché ad esempio, chi arriva a dire, ah mi ha bloccato, allora uno che ti blocca, o è un pazzo che ti ha bloccato, e allora meglio perderlo che trovarlo, diciamo così, chi blocca, sblocca, senza nessun motivo, è uno fuori di testa, quindi toglietevelo dai coglioni, al più presto, oppure se una persona invece arriva a bloccarti, perché tu gli hai fatto pressing, ne hai tormentato, hai manifestato gelosia, beh, allora, devi tenere presente, che questo, forse devi variare un po' i tuoi comportamenti, e non, e non, diciamo, devi variare un po' i tuoi comportamenti, e tenere presente che, diciamo, se continui a fare la piccicosa, la cozza, quella che tormenta, è ovvio che le persone ti bloccano, perché si sentono pressate, non, quindi mai fare pressing, poi soprattutto, in situazioni, dove veramente, non c'è una relazione, dove veramente, c'è soltanto, una frequentazione, e basta, è questo, è quello che devi tenere presente, e se non, se non fai così, diciamo, che difficilmente, riuscirai, a ottenere, dei risultati, purtroppo, positivi, nella tua vita, otterrai solamente, delle situazioni, che non ti porteranno, poi, da nessuna parte, quindi, quello che consiglio, è, diciamo, diventare più allegri, diventare più socievoli, socializzare con tante persone, e non dare l'esclusiva a nessuno, non dare l'esclusiva a nessuno, fin tanto che non c'è un impegno, con questo atteggiamento mentale, sarà anche più difficile, tra virgolette, viversi degli attaccamenti, no, perché gli attaccamenti, si vivono solo, quando si rimugina, siamo noi, che creiamo, i vitelli d'oro, e che alimentiamo, diciamo, situazioni di attaccamento, perché, l'attaccamento, nasce, quando tu devi dire, ah, io voglio quello, io voglio assolutamente quello, quello lì, è la persona giusta, quando abbiamo dei bisogni, e i bisogni, ce l'hai solo, quando inizi a rimuginare, inizi ad avere un accanimento, ma, diciamo, chi si accanisce sulle cose, diciamo, finisce sempre male, chi si accanisce perisce, il detto potrebbe essere questo, chi si accanisce perisce, l'accanimento non serve, e quindi dobbiamo diversificare i nostri pensieri, io entro in relazione con una persona, ma posso anche relazionarmi con due o con tre, e vedere come vanno le cose, fin tanto che nessuno si prende degli impegni specifici, mi vivo le cose in modo tranquillo, giocoso, senza, non considerandomi impegnato però, perché quando qualcuno parla, ah, io sono impegnato, poi ci sono situazioni anche paradossali, assurde, no? Io ho sentito persone che dicono, ah, il mio uomo, o il mio fidanzato, oggi sta con la moglie, cioè, considerando il proprio compagno, uno sposato, o il proprio fidanzato, uno sposato, questo è il delirio, oggi siamo arrivati anche al delirio, essere gelosi di uno che è sposato, oppure considerare uno sposato con un'altra, il proprio uomo, il proprio compagno, e vabbè, ma è separato in casa, e vabbè, ma che separato in casa non esiste, cioè, esiste un uomo sposato, che si fa una trasgressione con te, e devi dargli il peso che si merita a questa relazione, no? Che poi non è una relazione a questa frequentazione, quindi, se uno non ha una corretta visione della realtà, è normale che poi soffra, è normale che poi faccia le cose sbagliate, dobbiamo dare il giusto peso alle cose, no? Se un uomo è sposato, non può essere il tuo compagno, se un uomo è sposato, non può essere il tuo fidanzato, non può essere il tuo uomo, può essere un amante, può essere una trasgressione, può essere un qualcosa, in cui non devi darci peso, non devi darci, e non devi soprattutto, come dire, tra virgolette, avere solo quello, devi frequentarne anche altri. Bene, se riuscirai ad acquisire questa mentalità, vedrai che non, intanto le persone, ti cercheranno molto di più, e ci saranno molte più persone, che vorranno impegnarsi con te, che vorranno veramente passare, da una frequentazione, a una relazione, quindi vorranno impegnarsi con te, vorranno avere, che ne so, una convivenza, un matrimonio, un fidanzamento, quindi promesse di matrimonio, oppure, se tutto si mantiene nell'ambito di una frequentazione, va benissimo lo stesso, però non devi assolutamente dare l'esclusiva, cioè l'esclusiva va data soltanto a seguito di un impegno preciso, perché una relazione di amore completo prevede la passione, ma solo la passione non basta fare una relazione, prevede anche l'intimità, il fatto che le persone si parlino non soltanto del tempo, ma si scambino emozioni, si parlino delle cose proprie, ma l'intimità non basta a fare una relazione, quindi passione e intimità non sono sufficienti, per avere una relazione ci va un terzo elemento, che si chiama impegno, e l'impegno non è, ci prendiamo l'impegno di vederci una volta al mese, l'impegno è un progetto di vita in comune, quindi se non c'è il progetto di vita in comune, quindi un progetto di vita in comune che necessariamente deve manifestarsi attraverso una, come dire, o una convivenza, o un matrimonio, o una promessa di matrimonio, insomma, tutto il resto, tutto il resto non è collegato a una relazione, ma una frequentazione, il fatto di essere, poi dice, ah ma cosa vuol dire essere single? Tutte le persone che hanno una frequentazione o due o tre sono single in realtà, perché le persone, cioè uno che mi dice, ah io sono impegnata perché vedo un tizio una volta a settimana o una volta nei 15 giorni, tu non sei impegnata, tu sei single e frequenti così saltuariamente una persona, il fatto di non considerarsi single è sbagliato, quindi se uno frequenta soltanto una persona una volta ogni tanto, è single, di fatto è single, cioè il non essere single, il contrario di single è sposato o convivente, non c'è una, o fidanzato nel senso compromesso di matrimonio, non c'è altra situazione, no? Cioè perché non è che uno se frequenta una persona una volta al mese non è single o anche una volta a settimana, è single, il contrario di single è sposato, sposato, oppure convivente, o eventualmente uno che ha fatto, ha deciso la data dell'enozzo della convivenza e quindi fidanzato, ma uno che si vede una volta ogni tanto non è fidanzato, è soltanto uno che si frequenta una volta ogni tanto e quindi single, questo è il concetto di fondo, solo che le persone non, la maggior parte delle persone che è single pensa di essere fidanzato, questo è l'assurdo, anche nei nomi che diamo, cioè la maggior parte delle persone che di fatto è single, nella sua testa c'è l'idea di essere impegnato o di essere fidanzato o fidanzata, ma è soltanto una sua idea, perché in realtà non è questo, non è così, essere impegnati, essere o sposati o essere, quindi c'è piena la situazione, c'è pieno il mondo di single che non sa di esserlo e questa è un'altra cosa assurda, no? Quindi tenete presente questo e vedrete che le cose andranno molto meglio. Bene, per questo video è tutto, mi raccomando seguitemi su YouTube, canale YouTube Massimo Terramasco, attivando la campanella e riceverete le notifiche dei nuovi video. Iscrivetevi al mio canale YouTube Massimo Terramasco. Per questo video è tutto, ti do appuntamento, al prossimo, ciao! Grazie! Grazie!